Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Minecraft Challenge Oggi siamo su Mineplex e andremo a fare Super Smash Mobs Ma con una piccola variante Infatti si potrò utilizzare tutti i mob che voglio Però soltanto se possono colpire a distanza Infatti ragazzi o scelgo l'arciere che sta laggiù lo scheletro arciere Oppure lo zombie qua che comunque spara frecce E appunto io penso appunto che userò questo qui perché mi sembra un pochettino più forte Non posso usare le abilità e non posso usare nell'accetta o eventualmente un'arma a corpo a corpo Soltanto arco Quindi ragazzi non so se ce la faremo ma ci proveremo dai ci vorrebbe anche andare bene Ho ottenuto lo zombie se non sbaglio l'ho utilizzato soltanto una volta e sul mio canale non l'ho mai portato Quindi proviamolo Ok eccoci in partita Mancano giusto 5 secondi su questa mappa brutti ricordi perché incontro sempre cheater Spero non ci siano anche oggi Quindi ragazzi allora proviamoci subito Laggiù c'è un ragnetto e là c'è uno schifo Ok l'ho già colpito L'ho già ucciso Ho già ucciso uno No 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 Cosa sei te cosa sei Devo correre Ok di qua Dove sei finito L'ho missato l'ho missato tantissimo Vediamo se riesco a colpire qualcuno Ok Dai No ragazzi è un casino è un casino fidatevi Devo scappare così No 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 Ho finito le frecce ho finito le frecce Non ci credo Non ci credo Dai corri 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 Uh no mi ha ucciso Cavolo penso di averle arrivato un bel po' di vita Comunque due volte se non sbaglio l'ho beccata la strega lì Vediamo se ci riesco Dove sei te Brutto schifo No 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 Ok niente 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 Ah niente da fare Niente da fare Ok ho già due vite io Peccato Peccato veramente Devo un pochettino Ok uno è caduto davanti a me Vediamo se riesco a colpire la mucca lì No per poco però per poco Ho paura che mi arrivi qualcuno da dietro sinceramente E oh E sopra Sì E c'è la mucca lì anche Devo stare molto attento ragazzi Non so nemmeno come salire sinceramente Cavolo missata Ragazzi non capisco da dove cavolo sbucano Vedo un mob ovunque oltre la parete Però è un casino Ok niente mancato mancato Ci devo andare un pochettino più vicino forse Gli altri dove saranno Madonna mia ragazzi C'ho una paura qua Perché devo andare per forza così con l'arco Perché se l'arco è scarico Praticamente non riesco a giocare Cioè gli tiro una freccia che non fa danno Oh l'ho ucciso L'ho ucciso Devo stare attento Eccolo qua la strega Ho ucciso anche la strega Sto uccidendo tutti Incredibile Ok c'è laggiù lo squid E la strega anche la Allora lo squid mi è andato sopra No Devo scappare Devo scappare Muori tantissimo No 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 Non ce la faccio Non ce la faccio Eh mi ha ucciso Mi ha ucciso Purtroppo lui può stare le armi Io no È un casino È un casino Allora Da chi Ok c'è lui laggiù Potrei fare una mini vendetta In effetti Tipo così Colpito Dai Dove sei Dove sei finito Dio mia ma se saldi così Ok l'ho ucciso L'ho ucciso Dimmi che prendi No ok Non ho smesso di prendere fuoco Svotto Sono morto brutalmente Ah ho perso anche tutte le vite Però ragazzi L'arco cavolo è fortissimo comunque Cioè Tipo mi giravo Penso di aver fatto tipo 4 kill in questa parità E c'è anche scritto forse 4 kill Sì ragazzi Non è nata poi tanto male È nata abbastanza bene 4 kill ci può stare Vediamo questi qui come se la giocano Dai Ok nello scontro finale La mucca la peggio Che cade di sotto Perché lezza Eccoci anche nella seconda partita Stavolta siamo in 4 E non in 25 come prima C'è un creeper qui Lezzissimo Vediamo se mira subito me Ok Subito colpito così No 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 Uh Vediamo se riesco Ok l'ho ucciso ragazzi 3 frecciate l'ho ucciso Perfetto Ha usato troppo Quello di ragazzi Io lo amo troppo Questo coso Lo amo troppo E il bello è che c'ha pure L'abilità di sinistro Con l'arco Che tira la freccia E ti salva Nel senso che Non ti fa cadere Però non la posso utilizzare Ragazzi perché Non posso Ricordo non posso utilizzare Nelle armi A corpo A corpo E nemmeno Oddio sento un creeper E nemmeno le abilità Quindi soltanto arco Allora Vediamo se riesco a uccidere qualcuno Uno l'ho beccato eh No Per pochissimo L'ho missato Per pochissimo Vediamo se si affaccia di nuovo No ragazzi È impossibile Da beccare laggiù No È proprio impossibile È proprio impossibile Almeno che Non faccio tipo Il lezzo potentissimo Ora mi sta mirando Mi sta mirando No non è vero Non mi mira Eppure io pensavo di sì Cioè mi ha visto per forza In quel momento Vieni qua Ma perché si ferma in area Così un secondo No eccolo qui Ora ce l'ha con me Ce n'era un altro qui No era sempre lui Ok l'ho beccato una volta Ed è già qualcosa No L'ho missato ora Cavolo ragazzi Cavolo No c'è anche il creeper C'è anche il creeper Me ne sono trovato Tutti e tre erano lì addirittura Il pulcino non mi ha colpito Se lo chiamo pulcino Però comunque era lì anche lui Eh lezzino proprio Vabbè Allora Alla fine abbiamo tutti e tre vite Quindi si è equilibrata soltanto la cosa Cerchiamo di tirare un pochettino a caso Però io ho paura di andare nello scontro L'ho avvicinato Veramente Perché con l'arco non me la sento Viene da me lui Ora viene da me No Invece no Non viene Non viene Incredibile ragazzi Forse forse mi conviene Tipo rimanere qui Il pulcino Infatti ragazzi ve lo dico Se lo colpisco Mi sa che l'ho shotto con un colpo Però è tipo impossibile da colpire per me L'ho colpita invece Però non l'ho shottato Ok Perfetto Allora io mi avvicino un attimo Perché Così se no è un casino Dov'è No Fai schifo Dov'è sei finito Ok Vabbè Qua sopra non mi lamento comunque Non mi lamento per niente Quindi L'ho ucciso L'ho ucciso Aio Ma l'ho ucciso Sì l'ho ucciso comunque No C'era un altro lì Ho ucciso anche lui Ho ucciso anche lui Oddio E il polcino qui No 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 Dov'è finito Eccolo qua E qua sotto ragazzi E qua sotto No 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 Stanno mirando me Stanno mirando me Sono quello con più vite No Cavolo Eh no Eh no Eh no Ah ragazzi Quando sei quelli con più vite Veramente ti mirano in troppi Ed è un casino È un casino Allora vediamo Cosa riesco a fare Che poi avevo tre vite come un altro lì Però è lezzo Lui si vede Ha voluto mirare me Perché ha visto che tipo C'ho l'arco potentissimo E con l'arco potentissimo Non si scherza Assolutamente Io continuo comunque A tirare i frecci a caso Mentre loro combattono Per i cavoli loro Perché comunque Ho visto che conviene Perché almeno Li tolgo un bordello di vita Con una freccia sola Che è molto meglio Dello scheletro Mi sembra questo qua Comunque Vediamo come stanno messi No dove Sono morto Sono morto Manco me ne era accorto Mi ha fatto il giro da dietro Questo qua Mi sa Una vita sola Ragazzi Una vita sola Eh Pesa Ragazzi Questa pesa Ve lo dico Non so nemmeno dove Guardare Dove stanno gli altri Ok Eccolo lì No ragazzi Lui ora Lui ora ci prova con me Mi sa Oddio detto così È un pochettino Missato Missato di nuovo Ho paura del pulcino Che fine ha fatto Oddio Non è che mi ispiri Proprio di tanto No ragazzi Loro che Svolazzano così Un po' Un casino Ok L'ho colpito Perlomeno Eh no Sono morto Sono morto Era un casino Pure qua Era un casino Pure qua O almeno Ci andrà bene Cavolo Cavolo Veramente Ok ragazzi Eccoci nella terza E ultima partita Se ho visto bene Abbiamo due scheletri Contro E l'altro dovrebbe essere Un enderman O qualcosa di simile Quindi si potrebbe anche Questo qui definire Uno scontro Diciamo Equilibrato Perché siamo tutti arcieri Ora È già uno morto Così a caso E l'enderman Non mi piace per niente No 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 Uh ok Mi sono salvato Mi sono salvato Ma l'ho fatto anche Un bel po' di danno Dove sei finito? Dov'è? Dov'è? Ok Cavolo Eh sì Però No ok Ti ho anche missato Ti ho anche missato Mentre cadevo Potrei beccarti No Invece no Ok Ci posso riprovare Però Eh L'ho rispondato qua Vediamo se riesco A rubare sempre le kill Che è il mio sogno Quello Questo esplode No ok È risolvato un blocco A caso che mi ha tirato Che è finito lui? Ok Non so dove sia finito E forse è un mio problema Non lo so a dire il vero Però non è qua accanto a me Quindi va benissimo così Uh C'è uno lì C'è uno lì Che mi saluta Ok L'ho colpito io L'avrò fatto tantissimo danno Dai Affacciati Ok L'ho ricolpito L'ho ricolpito Brutto schifo Ok Ucciso 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 Ora però c'è l'enderman Che se la piglia con me Ora c'è l'enderman Che se la piglia con me Mi sa Ho caricato per bene L'ho missato Mentre viaggiava Cerchiamo di tirarla Laggiù a caso Ragazzi Non sarebbe male Chi miro Chi miro Chi miro Non lo so Ho mirato a caso Penso di aver beccato nessuno Ok Ne ho ucciso un altro Oh cavolo Oddio ce l'ho fatta Ce l'ho fatta per pochissimo Ragazzi L'enderman Un osso duro L'enderman Un osso duro E siamo rimasti anche in tre E qua davanti a me Eccolo qui Ok l'ho missato Che bello Da dietro Da dietro No ragazzi No Io non so come combattere Contro l'enderman Senza armi Perché lui le frecce Mi sembra di aver capito Che le Che lo trapassano Cavolo Ok Eh no Ma così mi spinge lontanissimo Non posso nemmeno usare La mia skill Per tornare indietro Dai Ma cos'è Ma cos'è Ce la posso fare Però ce la posso fare Cerchiamo di Oddio ragazzi Ora mi devasta Ora mi devasta E sono sicuro Muorici ogni tanto Eh no ragazzi Devo un attimo scappare Così Sto qua E appena arriva Cerco di buttarlo Eh no ma mi arriva da dietro Come Ok però l'ho beccato Forse l'ho ucciso No Si è risalvato Come ho fatto a salvarsi Siiii Con quattro vite Enderman del cazzo Allora scusatemi Per la durata del video Che forse è un po' troppo corto Però so che a voi Non piace tantissimo Super Smash Mobs E poi dopo un po' Diciamo dopo tre partite Comincia a diventare Abbastanza pesante Comunque Non ne abbiamo vinta Nemmeno una Ma c'è da dire Una cosa molto importante Forse per la prima volta Da quando ho cominciato La serie Su questo minigioco Eh Ho fatto delle kill decenti Infatti ci sono state Ragazzi delle kill Che sinceramente Ci stavano dai Ci stavano onestamente Quindi spero ragazzi Che questo video Leggissimo vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti Ovviamente se avete consigli Per le prossime challenge Scriveteli nei commenti Che comunque li leggo